Buongiorno, è sabato, è sabato 3, sì credo, sta piovendo, sta diluviando, io tra poco vado a lavoro, ho già fatto colazione, ho già disfatto il letto, ho già preparato una torta salata, è stata una mattina abbastanza frenetica e mi sono dimenticata di prendere in mano i vlogmas, ma facciamo un giro così, facciamo un riassunto di ciò che ho fatto e poi corro in stazione. Allora, qua c'è la torta salata fatta con quel broccolo, oh cavolo, non mi ricordo, quello che ho lessato ieri, è una ricotta e un uovo, quindi molto easy, però io poi la taglio in quattro, la surgelo e la porto a lavoro per pranzo, quindi questa fatta perfetta. Sono lavassoviglie e ho dato una lavata a queste cose, ho fatto un pacchetto di Ava & May con i regali di Natale, uno mi è arrivato rotto, c'erano degli sconti pazzeschi, ho pagato le candele grandi, 22 euro l'una, e la piccola me l'hanno regalata, poi ve le faccio vedere con calma, adesso non ho tempo, una mi è arrivata rotta, ho già fatto la richiesta per riaverla, perché comunque è arrivata rotta, però oggi è sabato, quindi mi risponderanno probabilmente lunedì, poi ve le faccio vedere con calma appena un attimo e vi faccio sapere poi, ci sono rimasta malissimo ovviamente, dando la lavatrice che poi verrà stesa dal metà quando torno a casa dalla spesa, ho fatto il letto e o lo fa lui o lo faccio io quando torno stasera, tanto non è un problema, così intanto a rieggia e via, vorrei dargli un'aspirata ma non ho tempo oggi, lo farò un altro giorno, quando sarò a casa un pochino più calma farò anche quello. Adesso devo uscire tra 10 minuti, sto cercando di esportare questo che poi vi verrà caricato come primo vlogmas, ma non so se farò in tempo, quindi lo scopriremo solo vivendo. Buongiorno, sono le sette e mezza di domenica, di luglio, non so se si sente, ma penso di sì, e io adesso faccio colazione e poi alle otto vado a prendere il treno che vado a lavorare, e niente, buona domenica, buona giornata. Buona domenica, 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 buona domenica Buongiorno è lunedì 5, sono le 7.45. C'è vento, piove e alle 9 devo uscire per andare a prendere il treno e andare a lavoro. Poi domani sono a casa finalmente, non vedo l'ora. Ho già fatto la doccia, mi sono alzata alle 7.05 circa. Ho già fatto la doccia, ho fatto partire una lavatrice, ho sistemato due robe, adesso colazione. Perché ne ho proprio bisogno di un bel caffè. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora, non vedo l'ora.